voglio mostrarti un gioco di carte ma avrò bisogno della tua collaborazione mi serve la tua mano distesa in questo modo molto bene dovrei tenere le carte appoggiate sopra la mano importante guarda l'importante è che tu riesci in qualche modo a trasmettere l'energia qui al di sopra delle carte che non sono proprio carte normali ti mostro che in questo momento noi abbiamo uno due tre quattro carte quattro carte bianche nella mia mano ora la tua mano come appoggio è un mio gesto magico incredibile che permette di avere una magia a questo punto andiamo a controllare e abbiamo uno due tre quattro ragnatele ma ancora la domanda come come appoggio ma solo un gesto magico e abbiamo di nuovo le carte uno due tre quattro carte bianche vogliamo far apparire un ragno a questo punto guarda provaci tu sono io sono io a tenere le carte nella mia mano apparsa la ragnatela fai un gesto magico per far apparire il ragno con la tua mano guarda gira questo è il ragno con la tua sent Key? ragazzi 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 Grazie per la visione!